Ciao ragazzi, io sono Antonio e anche oggi, come ogni martedì, nuovo video a tema Harry Potter. Questa volta unboxing che arriva direttamente da Mini Big World Collectibles e si tratterà di tanta bella roba di The Noble Collection. Ma prima di cominciare voglio aprire questo pacchetto che mi è appena arrivato direttamente da Daniel Wellington. Mi hanno inviato questo pacco in occasione del Natale e adesso vi mostro velocemente il contenuto. Ecco qui, si tratta di una confezione regalo natalizia. Sul loro sito trovate questi bundle in offerta col 10% di sconto e potrete cumulare anche il mio codice sconto a serie che vi darà un 15% extra di sconto fino al 31 dicembre. Io in questo caso ho approfittato della gentilezza di Daniel Wellington per fare un regalo di Natale a mia volta visto che io ne posseggo già tanti di questi orologi e si tratta di un bundle con un nuovissimo orologio della collezione Daniel Wellington questo qui bianco col cinturino in metallo e anche il nuovo bracciale in abbinato. A me piacciono un sacco i Daniel Wellington, lo sapete, e quindi mi è sembrata una buona occasione per fare felice un'altra persona. Ragazzi, trovate tutti i link sotto in info box, codici sconto e tutto il resto. Ma adesso passiamo al nostro unboxing. Bisturi alla mano, ragazzi, prendiamo il nostro pacco che non vedevo l'ora di aprire perché, ragazzi, contiene delle cose che volevo prendere da tantissimo tempo, da anni e che finalmente posso aggiungere alla mia collezione così da togliere quelle tarocche. Perché? Ebbene, sì, ve lo sarete già spoilerato nel titolo del video. Ragazzi, questa volta abbiamo Bacchette Noble Collection. Bacchette che desideravo davvero da tantissimo tempo. Sono entrato da qualche mese nel tunnel delle bacchette di Harry Potter e quindi sarà difficile uscirne. Ecco qui il pacco che mi hanno inviato i ragazzi. Ragazzi, guardate quanto imballano bene. Ve lo faccio vedere ogni volta, ma sono a prova di bomba. E voglio darvi anche il mio codice sconto che è serie 5, che è praticamente sempre valido e potrete utilizzarlo per avere 5 euro di sconto su una spesa minima di 30 euro. Ma, ragazzi, ultimamente su Mini Big World Collectibles una montagna di sconti 3x2 su tutti i nuovi fanco, spedizioni gratuite spesso e volentieri. Io vi straconsiglio di seguirli anche sui social. Trovate tutto sotto in infobox. E voglio chiarire anche un punto perché alcuni di voi pensavano che Mini Big World Collectibles fosse un sito straniero. Infatti mi avete chiesto di dogana e spese di importazione. No, ragazzi. Mini Big World Collectibles è italianissimo. Quindi state più che tranquilli, super sicuro, imballi perfetti e promozioni a non finire. Link, come vi dicevo, sotto in infobox. Detto questo, non sto più nella pelle, quindi tiriamo fuori il contenuto. In realtà, la prima cosa non è proprio una bacchetta, ma si tratta di un altro puzzle di The Noble Collection. Ormai non posso più farne a meno. Ho già cominciato a fare quello della mappa del malandrino e mi sa che quando terminerò quello comincerò subito questo qui che mi piace tantissimo. Si tratta della copertina del cavillo. È molto molto bella. Guardate, qui dietro c'è l'immagine per intero. Si tratta di un puzzle da mille pezzi. Ce ne sono anche altri modelli che trovate sempre sul sito. Non costano tanto e sono davvero molto molto ben fatti. Hanno anche delle dimensioni un po' fuori dal comune, soprattutto quello della mappa del malandrino, che è rettangolare, molto lungo e stretto. Questo qui ha proprio le dimensioni delle copertine aperte del cavillo. La classica copertina con gli spettrocoli, quella che abbiamo visto nel film di Harry Potter. Io adesso vi faccio vedere anche com'è fatta la confezione per chi si fosse perso il video della volta precedente. Ok, tiriamo via la plastica protettiva, così da farvi vedere meglio la confezione. È molto molto particolare, a differenza degli altri puzzle, perché si tratta di una confezione a scrigno che si va a estrarre così. E all'interno ecco che troviamo la nostra bustona con i mille pezzi ben protetti. Ed ecco qui che abbiamo anche l'immagine per poter seguire la costruzione. Cosa molto utile perché nei puzzle tradizionali io non trovo mai questa immagine, ma devo mettermi la scatola davanti. Invece così questa la trovo molto molto più pratica per andare a trovare i pezzi. Io mi scuso e già ne anticipo perché so che molti si lamenteranno del fatto che io pronuncio male la parola puzzle. Puzzle, puzzle, puzzle. Ragazzi, prendetemi per come sono e non criticatemi troppo. Bene, detto questo, io direi di mettere da parte il nostro bel puzzle e lo mettiamo qui e tiriamo fuori le nostre bacchette che sono ben due. Una e due. Ragazzi, per la cronaca dentro abbiamo anche i sacchettini con l'aria. Quindi davvero per i fanatici dei pop super super garantito che arriveranno tutti in condizioni mint. Ed ecco qui. Abbiamo le nostre due scatole ed ho acquistato due bacchette. Una è quella di Voldemort che volevo da tantissimo tempo e l'altra è quella di Harry. Io ne posseggo già una di Harry quella che veniva data in omaggio con il primo fascicolo degli scacchi magici e l'ho sempre custodita con tanta, tanta cura e infatti è arrivata fino ai giorni nostri nonostante siano passati qualcosa come 15 anni. E adesso ve la mostro così la possiamo anche paragonare a quella di The Noble Collection. Eccola qui, ragazzi. Mi è sempre piaciuto un sacco. ha la punta magnetica per poter muovere i pezzi degli scacchi del gioco però è fatta davvero molto bene. È originale Warner Bros. ma non ho mai ben capito se la dimensione fosse quella originale fosse in scala. Io ho sempre pensato di no. Sicuramente sarà una versione un po' ridotta però adesso finalmente possiamo paragonarla con quella originale. Quindi con quella Noble Collection non questa che non fosse originale. Ma eccola qui. credo sia questa visto che qui troviamo una V che probabilmente i ragazzi avranno messo per non mischiarle. Sì, infatti. Qui c'è scritto Voldemort's Wand e quindi questa è quella di Harry al 99%. Tiriamola fuori dalla scatola e vediamo come si presenta. Ed eccola nella sua classica confezione in stile Ollivander. Mi piace tanto l'accoppiata di colori che Noble Collection ha dedicato a questa bacchetta. La parte superiore della scatola in questo marroncino che va a simulare la pelle e sotto troviamo la parte beige che sta davvero bene col marrone. Invece su entrambe le estremità troviamo due adesivi uno con i numeri 6432 e dall'altra parte i numeri 9632 che sinceramente non so cosa significhino però va bene così. E adesso andiamo ad aprirla e vediamone il contenuto. Ecco qui abbiamo le solite veline sopra di colore rosso in questo caso e anche il contorno della scatola ha lo stesso tipo di velina con questa linea centrale in rosso. Il dettaglio è sempre super curato in Noble Collection ma ormai lo sappiamo. Adesso andiamo ad estrarre la bacchetta e confrontiamola con quella che è già in mio possesso. All'interno sempre il certificato di garanzia di Noble Collection con tutte le licenze Harry Potter, Warner Bros per dimostrare l'autenticità del prodotto ed ecco qui finalmente la nostra bacchetta in tutto il suo splendore. Ragazzi è una figata è molto molto pesante è molto molto ben scolpita. Devo dire che non c'è molta differenza per quanto riguarda il manico e possiamo dire che la parte inferiore è totalmente in scala è esattamente la stessa rispetto a quella che avevo io non varia neanche di un centimetro tutto molto molto simile cambia solamente il colore quella lì di Noble Collection è un po' più marroncina e l'unica cosa che le differenzia è la lunghezza della parte finale che in questo caso è un po' più lunga in quella di Noble Collection credo vada proprio a rispettare i pollici descritti nel libro nella storia però davvero molto molto ben fatta non cambia praticamente nulla e cosa interessante questa bacchetta si attacca a questa qui Noble Collection che evidentemente ha un'anima in metallo perché si va proprio ad attaccare probabilmente non si noterà nel video però riesce quasi a rimanere attaccata ok ecco qui sono riuscito a farvelo vedere quindi confermata l'anima in metallo delle bacchette Noble Collection che dovrebbero renderle più resistenti in ogni caso sconsiglio sempre di darle in mano dei bambini perché sono comunque molto molto fragili ma ragazzi adesso direi di passare alla bacchetta di Lord Voldemort che è quella che più mi incuriosisce tra le due perché è anche una delle più particolari che dovrebbe andare a simulare un materiale osseo e voglio vedere come l'hanno reso in Noble Collection tiriamo anche questa fuori dalla protezione in cartone arrivano sempre super super protette anche queste ed ecco qui la scatola questa volta l'accoppiata di colori è diversa abbiamo una parte superiore in finta pelle nera e la parte inferiore uguale a quella di Harry in color beige e già notiamo qui che fuoriesce un po' della velina che dovrebbe essere nera questa volta non troviamo numeri ma troviamo una rosa dei venti in entrambe le estremità ma apriamo la confezione e vediamo subito all'interno tutto nero tutto assolutamente nero anche il bordino laterale e andiamo a sollevare le veline sono super curioso ragazzi già intravedo il manico ed è davvero tanta roba andiamo a rimuovere il certificato di garanzia anche in questo caso e ragazzi guardate quanto è figa questa bacchetta è davvero molto molto bella e fanno davvero una gran bella figura esposte in una vetrinetta o in una libreria tutte così una accanto all'altra dentro le scatole dovrò trovare il modo di farlo magari farò un giro da Ikea o consigliatemi voi nei commenti se esiste un modo per tenerle in piedi sopra una mensola o esposte vicino ai libri non lo so fatemi sapere voi come le tenete esposte magari mandatemi delle foto su instagram antonio.seria mi trovate anche lì bene ma tiriamola fuori dall'alloggio e ragazzi vi dirò che supera davvero le mie aspettative è molto molto bella e devo proprio ammettere che sembra realmente realizzata con del materiale osseo è leggermente traslucido non so se si riesce a notare dal video ma è davvero molto molto bella soprattutto questa parte è qui tutta incavata con questi segni nella parte centrale e l'osso finale sembra davvero un osso reale quasi un osso umano è davvero molto molto bella molto liscia totalmente differente da quella di Harry sembrano addirittura due materiali differenti nonostante sicuramente saranno entrambe realizzate in una sorta di resina dentro degli stampi però davvero molto molto bella da notare anche questa parte che fuoriesce qui davvero molto ben realizzata e poi come al solito sulla bacchetta troviamo inciso il copyright di Warner Bros cosa molto importante ragazzi state attenti soprattutto quando acquistate in fiera o su Amazon perché spesso e volentieri vi rifilano bacchette non autentiche quindi qui siete più che tranquilli mini big world collectibles tratta solo quelle noble collection ma state davvero attenti perché spesso e volentieri vi rifilano cose non originali e deve sempre essere presente il timbro col copyright di Warner occhio fate molta molta attenzione questa bacchetta davvero molto bella mi piace tantissimo molto leggera più leggera di quella di Harry ma si impugna molto molto bene soprattutto grazie a questa parte qui finale che va ad alloggiare il dito e a non farla cadere mi piace mi piace tantissimo sono davvero delle gran belle bacchette che si vanno ad aggiungere a quelle che già possedevo quella di Newt Scamander e quella di Albus Silente che mi ha regalato l'amico Peppe quindi ragazzi io vi straconsiglio di tenere sempre d'occhio il sito mini big world collectibles perché sono arrivate anche le bacchette del nuovo film animali fantastici io conto di prendere quella del giovane Albus Silente nel più breve tempo possibile e di mostrarvela anche sul canale bene detto questo vi ricordo ancora una volta il codice sconto serie 5 per avere 5 euro di sconto su una spesa minima di 30 euro e vi ricordo anche di seguire i ragazzi di mini big world collectibles su instagram e su facebook date uno sguardo nell'info box perché è sempre pieno di informazioni utili e di codici sconto e promozioni che naturalmente possono agevolarvi bene spero che questo video vi abbia fatto piacere di avervi tenuto 5 minuti di compagnia e ragazzi naturalmente noi ci vedremo prestissimo con tante altre novità prevedo più video questa settimana sempre a tema Harry Potter perché voglio assolutamente mostrarvi delle novità e soprattutto il libro relativo ai crimini di Grindelwald ma detto questo do un taglio alle ciance e ragazzi mi raccomando lasciate un mi piace commentate condividete iscrivete al canale quando non foste iscritti e noi ci vediamo prestissimo con tante altre novità ciao